Ciao ciao a tutti! Rieccomi con un nuovo video. Questo video è un contest per festeggiare i 9000 iscritti. Siamo esattamente 9101 iscritti. La carica è del 9101. Grazie di cuore a tutti. Il contest si baserà su questa creazione. Ed eccola qua, ideata proprio per l'occasione. Lo schema di questo cuore che ho chiamato Heart to Heart, che è anche il titolo di una canzone che mi piace. Il cuore l'ho realizzato con Super Duo, Cipollotti e Perline. L'effetto finale è davvero carinissimo. Ho creato queste due versioni. Un portachiavi, ed eccolo qui. E anche una decorazione per una borsa. Ma volendo possiamo realizzare qualsiasi cosa con questo modulo. Dei ciondoli, dei bracciali, degli orecchini. Davvero tutto. Per partecipare al contest è davvero semplicissimo. Basta essere iscritti al canale, cliccare mi piace al video e ovviamente commentare qui sotto. Darò un numero ad ogni commento ricevuto, in modo da facilitarmi durante l'estrazione. Il contest termina il giorno 13 febbraio a mezzanotte. Il 14 febbraio farò l'estrazione con il sito random.org. Ovviamente sempre il giorno 14 febbraio, il giorno di San Valentino, pubblicherò un video con l'estrazione sul mio canale. A seconda dei partecipanti ci saranno un tot di vincitori. Nel senso che più partecipate al contest e più avrete la possibilità di vincere lo schema QDF di Heart to Heart. Buona fortuna a tutti. Ciao! Ciao!